Nome? Giulia. Cognome? Vorghi. Età? 21. Professione? Attrice. Ti abbiamo visto in alcuni scatti con Rolbova, che cosa ci puoi dire a riguardo? Eh, stiamo diventando un po' più amici, ci stiamo frequentando. Che fine ha fatto Corona? È andato con la Belen, con la Belen, con la Belen. Tu che ne pensi della farfalla di Sanremo? Io non avrei mai fatto una cosa del genere. Però nel tuo film c'è una scena di nudo, 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 nudo. Eh, ma con l'ora è lavoro. Che effetto ti ha fatto girarla? Eh, mi sono divertita, è stata un'esperienza nuova. Che ne pensi della nudità in televisione? Eh, ormai noi donne veniamo usate soltanto per il corpo e non per la nostra intelligenza. Eri fatta naturale? Naturale. Ti rifaresti qualcosa? Mi piacerebbe rifare il naso, ma vabbè, rimango così. Fai un verso e salutaci. Miau! Chi! Ciao! Grazie a tutti